Quest'anno è stata introdotta la novità dell'IMU, che cosa comporta e quali consigli dare a questo proposito? L'IMU è stata ovviamente decretata già dal marzo dello scorso anno, è stata introdotta da Monti con un anticipo di due anni rispetto alla decorrenza originaria, porterà le persone al pagamento dell'imposta sulla prima casa, cosa che prima era stata esonerata a partire dal 2008 e soprattutto la possibilità per quanto riguarda l'anno 2012, per cui con la prossima dichiarazione dei redditi, di non pagare più l'imposta dell'IRPE fedele addizionali sulle abitazioni diverse, ovviamente su tutti gli immobili, diversi da quelli locati. Cos'è che comporta? Sicuramente per tutti quelli che avevano messo nel cassetto l'ipotesi di non pagare più lici è quella di riprendere in mano documenti, visure catastali, atti notarili e quant'altro e andare in un centro di assistenza fiscale entro il 16 di giugno per farsi calcolare la prima rata da pagare dell'IMU. Di Contri Comuni hanno la possibilità di variare queste aliquote basi che sono state fissate dallo Stato con delle delibere proprie che dovrebbero essere approvate entro il 30 di giugno. Va da sé che se entro la data della prima scadenza della rata le aliquote non sono ancora state approvate, le persone potranno versare l'acconto utilizzando le aliquote fissate dallo Stato e nel mese di dicembre con il saldo che dovrà avvenire entro il 17 di dicembre tornare nuovamente al CAF per fare calcolare alla luce delle delibere che hanno approvato i Comuni con le variazioni eventuali che ci sono state. Quali sono le case che hanno il trattamento di abitazione principale che quindi possono usufruire di agevolazioni? Allora nel passato il trattamento di abitazione principale poteva essere esteso a delle abitazioni anche in uso gratuito ai familiari o altre tipologie di immobili che il Comune poteva deliberare e riconoscere esenti dal pagamento del lici per quanto riguarda l'anno d'imposta dal 2008 in poi. Con la novità invece dell'IMU l'abitazione principale e il trattamento di abitazione principale è riservato all'immobile dove il contribuente risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. Va da sé che tutti quelli che erano esentati prima dal pagare i lici sull'abitazione data in uso gratuito ai familiari da quest'anno l'IMU lo pagano integralmente senza sconti di aliquota o di detrazione. Grazie. Grazie. Grazie.